ciao a tutti io sono mastino volevo ringraziarvi per aver sostenuto il nostro progetto di laboratorio di scrittura creativa e improvvisazione alla sala prove poliedro io e i miei ragazzi vogliamo invitarvi alla mostra interattiva che si terrà il 20 novembre presso l'informa giovani di via dogana 2 a milano c'è un programma molto ricco ci sarà una visita guidata dalle 17 ci sarà una video esibizione live ci sarà una diretta radio e alla fine ci sarà un buffet festeggeremo tutti assieme con del sano hip hop dal vivo grazie di nuovo e vi aspettiamo ciao